Cinque incontri, uno per provincia, dedicati alla raccolta e all'analisi delle stanze che provengono da chi opera ogni giorno nel sistema rurale. Con questo obiettivo, oggi pomeriggio, ha preso il via il ciclo di incontri intitolato Ascoltiamo il territorio, condividiamo il programma, che proseguirà a Montegiorgio, Castelraimundo e Montalto delle Marche, per poi concludersi al Convento del Beato Sante, a Monbaroccio, giovedì 4 marzo. Il percorso di condivisione è stato organizzato dalla Regione in vista delle missioni dei prossimi bandi, contributi utili a migliorare l'utilizzo delle risorse che potranno sostenere e sviluppare un territorio regionale gravemente colpito, prima dal sisma, poi dagli effetti della pandemia. Sì, abbiamo iniziato questo ciclo di incontri per ascoltare le imprese, per avere da loro delle indicazioni sulla prossima programmazione e in qualche modo per condividere un percorso a cui noi teniamo tanto, di sviluppo rurale, che ci vedrà protagonisti per i prossimi due anni con un finanziamento straordinario, importante da parte dell'Europa e un cofinanziamento della Regione che vale circa 170 milioni di euro per il biennio 21-22. E quindi dobbiamo condividere con le persone esperte, ma anche con gli agricoltori, quelle che sono le migliori iniziative di finanziamento dell'agricoltura, facendo tesoro degli errori del passato e cercando di creare sempre di più un valore per fare in modo che chi fa impresa agricola ne attraga un vantaggio economico. Gli appuntamenti saranno fruibili sia in presenza che online, in diretta, sui canali Facebook e YouTube del PSR Marche.